Renzi pensa di venire in casa del Movimento 5 Stelle a fare campagne acquisti, si sbaglia di grosso. Vuole, come dice, aprire il Movimento 5 Stelle? Bene, inizia a bloccare le riforme e a portare in Parlamento il reddito di cittadinanza e l'abolizione dell'IRAP per le piccole e medie imprese, come chiede il Movimento 5 Stelle. Questo noi lo voteremo.